Alla cerimonia hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni, la nuova sede della Croce Rossa e a Palazzo Arancio all'interno della Cittadella della Salute. Presentati anche nuovi mezzi in dotazione al Comitato Trapanese, un'ambulanza, due auto, tende da campo, furgoni. Una sede efficiente ma soprattutto nuove dotazioni per la Croce Rossa a sostegno dell'attività importante che svolge? Sì, con un grandissimo sforzo dei volontari senza nessuna donazione esterna, solo con il lavoro e l'impegno quotidiano dei volontari. Abbiamo acquistato mezzi e attrezzature che comunque poi saranno utili per la popolazione, per chi ne ha necessità. Quanti volontari? Tanti, sono tanti. Sono circa 350 trapani più quelli dei comitati provinciali, quindi in tutto siamo in provincia circa 750.